E' stata tempestata di telefonate nella nostra trasmissione Padova in diretta, chi crede ai miracoli e chi no. Di questo si è parlato assieme ai nostri ospiti in studio Silvio Scannagatta, professore di sociologia all'Università di Padova, e Don Cesare Contarini, rettore dell'Istituto Barbarico. Il cristiano crede solo in Dio e in particolare in Gesù Cristo, che ha compiuto dei miracoli, ma sempre domandando la fede, cioè chiedendo alle persone che si fidassero di lui, che in porto avesse quella fede è difficile stabilirlo. Io avrei un po' più di rispetto per i miracoli definendoli in quell'area in cui la religiosità, le credenze, le tradizioni, eccetera, collocano dei fenomeni non conosciuti. Durante la trasmissione sono andate in onda le testimonianze di chi si è sentito miracolato. Cosa le è successo? Abbiamo vissuto un problema in famiglia dove mia madre praticamente era data per un stato di malattia, è stato avanzato e dopo misteriosamente non c'era più la malattia. Quindi su quelle cose che ti fa porre delle domande. Altri per telefono hanno sostenuto la tesi che i miracoli siano solamente fatti che la scienza non riesce a spiegare perché non conosce ancora le leggi che regolerebbero un evento naturale come tutti gli altri. Questa meraviglia di fronte a ciò che l'uomo crede sia reale, vero, definitivo, eccetera, l'uomo si stupisce, si meraviglia e quindi parla di miracolo. Ma questo esiste in tutte le religioni, cioè è la stessa fede religiosa che è un miracolo. C'è chi parla di autosuggestione, chi di burle. Don Cesare Contarini ha però sottolineato come i miracoli di oggi siano ben altri. Una ragazza che resta incinta, abbandonata dal compagno e dice voglio il bambino lo stesso è un miracolo della vita. Una donna, un uomo che assiste il partner ammalato per mesi e mesi e anni è un miracolo di dedizione. Una persona che riesce a perdonare una situazione molto difficile, un fatto grave che ha subito e dice io ti perdono, è un miracolo. Qualcuno li chiama buona sorte, altri interventi divini. Rimangono situazioni misteriose ai miracoli, ricche di fede. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.